I carabinieri del ROS stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della locale DDA, a carico di 4 persone indiziate di averle preso parte in qualità di mandanti o esecutori a 4 omicidi, uno dei quali commesso col metodo della cosiddetta lupara bianca, perpetrati dalla famiglia mafiosa di Barcellona Posso di Gotto, tra gli arrestati esponenti di spicco del soldanizio criminale. I particolari saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà quest'oggi alle 10.30 presso il comando provinciale dei carabinieri.